La Lega Nord da che cosa deve ripartire? Deve ripartire da una battaglia giusta di demolizione di quello che è stato finora un'Europa fatta di burocrati, un'Europa fatta di affabulatori di sviluppo che non c'è mai stato, ricostruire un'Europa diversa, un'Europa dei popoli, ricostruire anche una politica economica, finanziaria e monetaria, si serve diversa, ribaltare, tirare per aria completamente quello che è il tavolo, ripeto, qualcosa che ha tolto sovranità non tanto agli stati nazionali che per noi potrebbe anche essere una cosa positiva, ma l'ha tolta la gente, non ha più la possibilità, la capacità di scegliere quello che gli serve per il proprio territorio, noi dobbiamo ripartire da questa battaglia legata al territorio, dobbiamo costruire un qualcosa che metta la centralità delle regioni e delle macro regioni sull'agenda politica e arrivare a quello che è il primo articolo di questo nostro movimento da sempre, cioè l'indipendenza del Nord, non è che ci sono altre strade. Poi questa è la strategia, poi le tattiche, sarà compito del nuovo segretario federale indicarcele e noi lealmente, come sempre, andremo ad applicarle sul territorio. Da deputato della Lega Nord in Commissione Esteri, che significato ha la presenza di altre delegazioni di altri paesi oggi qui al Congresso della Lega Nord? Ha un significato forte nella misura in cui questi rappresentanti sono rappresentanti di movimenti indipendentisti. Sono un pochettino più scettico magari sulla presenza di, sull'eventuale, ma poi ho capito che non ci sarà, presenza di movimenti che sì, possono avere dei tratti comuni nelle nostre battaglie, soprattutto legate alla gestione delle politiche dell'immigrazione, dei clandestini, ma che però sono diametralmente opposte a noi rispetto a quello che è l'indipendenza, cioè noi partiti nazionalisti ne abbiamo già troppi a casa nostra, è inutile, secondo me, non hanno niente da insegnarci. Forse, ecco, qualcuno, certamente qualche buon politico d'oltre alpe o del genere, che si è fatto valere sul piano della difesa dell'identità culturale, legata a una questione troppo pressante dell'immigrazione clandestina, quelli sono temi su cui possiamo dialogare, ma non sicuramente fare alleanza.